ok ragazzi riprendiamo da dove avevamo mollato alla difesa ci insegneranno come difendere con tutti i cazzi e mazzi tiratori torri spranghe cose varie come difenderci dagli attacchi dei bizantini tanto si ho cambiato il colore degli abiti non so se si è notato ok qua c'è nulla che devo posizionare posizionatevi lì ok morale 40 perfetto mmm Non sono ancora arrivati Più due Ah ok 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 Adesso ha senso Infatti non capivo Non c'è sincronizzazione totale per fortuna Capo degli assassini Buono Barriera Capo degli assassini Non voglio mettere qui però Non posso metterlo Che palle Ammetto dei tiratori Posizionatevi lì Prossima una barriera E la prossima barriera di là Perfetto Capo degli assassini Capo a un tetto illuminato Ok E allora andiamo con Gli archi brughieri Io però voglio mettere Questa cazzo Posso? Oh Proteggete quel punto Chi sono sti pazzi qui? Mantenete quel punto Restate lì Ok Hanno abbattuto La muraglia Ma noi non demordiamo Quanto cazzo costano questi 15? Proteggete quel punto Bene Un ferito Ok Ok Queste due difese Sono ancora intere Posizionatevi lì E ve ne metto un altro A tradimento proprio Certo potrebbero essere più veloci Però eh Posizionatevi lì Posizionatevi lì Posizionatevi lì Posizionatevi lì Però no qua Siamo a posto Archi brughieri E ne ho posizionati assai Credo Posizionatevi lì Ora aspetto che ritorni a 15 Tipo adesso Posizionatevi lì Minchia Proprio spediti via a calci in culo Sono tornati Mantenete il controllo di quel punto Ha sfondato Però aspetta Noi si fa così E un altro qui A posto Adesso va attaccata al cazzo Eh mi sa che Si attaccamo noi al cazzo adesso Però confido nei miei tiratori Che andiamo a fare una cosa Molto intelligente Tipo questa Lo stanno abbattendo Sì lo stanno abbattendo Bene Abbattetelo Abbattetelo Tirate cazzo Godo C'è da riformare le difese adesso No Invece no Bene così 85% Perfetto Per essere la prima volta Dopo anni che lo faccio Not bad Passate voce se i templari si riorganizzano Sarò con Yusuf al covo del Gran Bazar Attraversa il corno d'oro Il traghetto è il mezzo più veloce Infatti così faremo Va bene ragazzi La missione è andata A buon fine Se così possiamo dire E la prossima attraverseremo appunto Il corno d'oro Andremo dall'altra parte di Istanbul E la prossima attraversa